83 sempre per la ruota siciliana, aspettiamo la terza estrazione e siamo in attesa dell'ultimo numero, dell'ultima estrazione di tutto il concorso della ruota di Palermo eccolo, eccolo l'ultimo estratto eccolo qui, è il numero 64, 64 e questi sono i 5 numeri che adesso insieme andiamo a rileggere per la ruota di Palermo numeri 46, 83, 5, 42 e 64 mancano ancora altri numeri, vediamoli insieme ruota di Torino, aspetto tra qualche minuto per la ruota nazionale e per la combinazione vincente del 10 e 8 sarà fatto Donna Stefania Orlando tra poco i concorsi, andiamo subito a leggere i numeri della ruota nazionale nazionale 19 6 4 e sperando che la stessa fortuna capiti anche a voi volevo dirti che sabato scorso un fortunato vincitore di Bologna ha indovinato 9 dei 10 numeri del 10 e l'8 e ha portato a casa 300 mila euro quindi buona fortuna a tutti il prossimo concorso è per giovedì prossimo dalla sede estrazionale di Milano arrivederci arrivederci tesoro sentiamo che è al telefono pronto l'8-3 pronto? pronto? dica pronto pronto? ma prego sono due